La pneumologia è la branca della medicina che si occupa dello studio dell'anatomia, del funzionamento e delle patologie dei polmoni, dei bronchi, del diaframma, della laringe e della trachea. Il compito di uno specialista in medicina respiratoria è diagnosticare qualsiasi disfunzione legata all'apparato respiratorio o patologie che potrebbero influenzare il futuro funzionamento delle vie respiratorie. Lo pneumologo può lavorare in collaborazione con un allergologo, mentre in necessità di un intervento chirurgico, lavora in equip con il chirurgo toracico o cardiovascolare. Un'importante sottocategoria di questa branca è la pneumologia interventistica, finalizzata alla diagnostica, ma anche alla terapia di alcune patologie pneumologiche. La specialista in pneumologia si è laureato in medicina e chirurgia e ha conseguito la specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio. Prima di proseguire con le informazioni, ti chiedo due secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Ci si rivolge al medico pneumologo quando si è in presenza di Malattie congenite Raffreddore continuo nel tempo Esposizione a tossine potenzialmente dannose, fumo, scarichi industriali dannosi Esposizione ad agenti infettivi Le malattie più comunemente correlate alla pneumologia sono Polmoniti Bronchiti Asma Asma allergica Tubercolosi Tumore ai polmoni Una visita presso lo pneumologo può essere richiesta a seguito di un consulto presso il proprio medico di medicina generale, in presenza dei seguenti sintomi Sensazione di oppressione al torace Difficoltà respiratoria Tosse persistente Affanno anomalo Apnee notturne Rumori durante la respirazione Ostruzione nasale Tosse con produzione di muco Stai cercando lo pneumologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.drbox.it Oppure su www.socialdoctor.it Oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di UMA Innovation Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video Iscriviti a questo canale e condividi Questa è un'idea di UMA Innovation www. Gymnosticastica.it UMA Gabriele